Oggi prepariamo la ricetta al filetto di tonno rosso all'agrodolce di soia. Quindi abbiamo un meraviglioso filetto di tonno rosso balfegò. Lo corto. In natura per il tonno taglio il lemongrass. Lo metto nel mortallo. Lime. Teriyaki. Succo d'arancia. Poi vado a preparare la marinatura. Prendo un pennello. E lo lascio marinare per 10 minuti. Prendiamo aceto e zucchero e lasciamo le cipolle. Coperte per mezz'ora. Una volta terminato questo è il risultato. Per la ricetta mi servirà la polvere di alga. Ho fatto seccare alga nori, alga wakame, alga kombu e poi le ho triturate per ottenere una polvere fina e molto saporita. Per panare il tonno ho preso il sesamo nero e poi l'ho triturato nel termomix per ottenere una polvere. Andiamo a metterla su una placchetta. Prendiamo il nostro tonno che ormai è marinato e facciamo una panatura. Lo mettiamo in abbattitore per un quarto d'ora in modo che rimanga questa forma. Portiamo l'olio di semi per friggere a una temperatura molto alta, di 190 gradi. Andiamo a una frittura molto veloce. Prendiamo la cipolla. Tagliamo il tonno in quattro parti. Adesso andiamo ad impiattare. Città. Grazie a tutti Così abbiamo terminato il mio piatto Grazie a tutti